Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire Questa generazione è una generazione malvagia Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione E li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno Perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona